Queste sono partite che con i tre punti in palio cambiano completamente, però va bene serviva per dare continuità a un programma di lavoro che stiamo facendo da pochi giorni e ci dà sicuramente delle indicazioni importanti su cui basare e avere concretezza di quello che stiamo facendo, quindi va benissimo, è stato un ottimo test sicuramente. Sono tutte giocatrici che hanno comunque un'esperienza importante alle spalle e che potranno dare quella solidità di cui hanno bisogno le ragazze più giovani. Allora, oggi già con le defezioni di Arianna Cuti e di Erzen, anche se ha giocato 10 minuti e manca qualcosa che abbiamo già in casa, in attacco soprattutto, deve arrivare ancora Melanie Kerrat, c'è Alzi Nicolao che sta recuperando e per il cambiamento sarà pronta e quindi gli darà quel punto di riferimento che magari può sembrare che non ci sia in questo momento. Sarà un'altra squadra con una punta così importante lì davanti.